La legge sul commercio dell'assessore Rixi è un pasticcio continuo. A parlare sono i consiglieri regionali del Partito Democratico, Giovanni Lunardon e Iuri Michelucci, che criticano duramente il nuovo provvedimento sulla grande distribuzione. Prima la Giunta ha individuato 15 aree in tutta la Liguria in cui insediare, a sua scelta insindacabile, la grande distribuzione, senza consultare i comuni e talvolta confliggendo persino con i loro piani urbanistici, proseguono gli esponenti d'opposizione. Il tutto si basava su uno studio che poi si è scoperto essere incompleto. Il Partito Democratico ha segnalato anche alcuni tratti di incostituzionalità. A questo punto, per uscire da questo vicolo cieco, noi intravediamo due possibilità, proseguono Giovanni Lunardon e Iuri Michelucci, o la Giunta trasforma la legge in un provvedimento amministrativo che consentirebbe di utilizzare lo strumento della VAS, tenendo conto delle indicazioni contenute nei PUC e nei piani commerciali dei comuni, peraltro approvati dalla Regione, oppure, se si vuole mantenere lo strumento della legge, si stralcino i siti e si individuino criteri stringenti che garantiscano la migliore regolazione di concerto con i comuni e con le parti sociali.